buongiorno questa mattina vi faccio vedere come si vernicia del legno grezzo ma non grezzo nel senso che fa i rutti e grezzo nel senso che è grezzo un pannello semplice usate se sono un po guardingo ma c'è un topo e quindi niente se mi vedete saltare a un certo punto è perché rincorro il topo ciò che occorre per le tre fasi della verniciatura è carta vetrata fine lana d'acciaio 4 zeri fondo turapori impregnante soprattutto olio di gomito per la finitura invece metteremo a confronto tre prodotti differenti quindi cominciamo con una bella carteggiata e poi una rifinita con la lana a 4 zeri poi iniziamo a stendere il fondo dopodiché finito di stenderlo lo facciamo asciugare dopo la prima mano di verniciatura spesso il legno ritorna rubido voi ripassate pure la lana d'acciaio e poi prepariamo la nostra cioccolata tra l'altro oggi piove quindi ci sta proprio da dio ultimato il momento di contemplazione romantica ricominciamo a verniciare e poi facciamo asciugare con tutta la campagna che hai devi venire qui a rompere le balle di dopo aver cercato in vano il topo che a quanto pare più furbo di me mettiamo a confronto i nostri tre prodotti per la lucidatura iniziamo con il 305 restauro che si stende tranquillamente con uno straccetto stessa cosa per l'olio al silicone mentre per la cera c'è qualche passaggio in più la stendete preferibilmente con una spatolina dopodiché la uniformate sempre con uno straccetto e aspettiamo che asciughi andato via ancora con la pelle d'oca prendiamo uno straccetto iniziamo a fissare la cera che nel frattempo si è asciugata così a palla dovete strofinare come vedete il risultato è simile poi in video non si capisce niente in ogni caso tutti e tre i prodotti sono idro repellenti quale dei tre prodotti scegliere dipende è ovvio che la cera protegge di più l'olio al silicone il 305 la differenza è che l'olio un po più lucido il 305 resta un po più opaco e degustibus spero di avervi detto quasi tutto adesso vado a incorrere stiuart little l'olio 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 l'olio